ho questo che ho avuto luce, queste qua sono qui quindi però prendete il caldo sguardo, le ragazze hanno l'abito cambiato, che non ho più, ok? fatto questo, un po' parlo con dei suoni, delle voci, diverse strane che possiamo anche montare se il portaggio, perché l'ideale è sempre, guarda qui la bocca, la bocca è con dei suoni assoluti che non c'entrano niente Grazie 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 Grazie